L'aria in Veneto è malata, lo dice il report di Lega Ambiente che analizza ogni anno i dati registrati dalle centraline della rete dell'Agenzia Regionale per l'Ambiente. L'inizio del 2020 non prospetta nulla di buono. Nelle prime tre settimane dell'anno infatti Vicenza è al quarto posto tra i capoluoghi veneti. Prima Treviso che ha sforato i limiti di PM10 per 19 giorni, poi Venezia e Padova per 18 giorni. Segue Vicenza con 17 sforamenti, un dato peggiore ai 15 di Rovigo e Verona. Secondo il rapporto di Lega Ambiente in Veneto sono oltre 3 milioni e mezzo gli abitanti esposti al rischio sanitario.